Hai visto quanti libri si sono presi la briga di scrivere contro di me? La sinistra non riesce a mettermi a fuoco. È lui, è la sua scorta! Ma te che cosa ti aspettavi? Di poter essere l'uomo più ricco del paese? Fare il premier? E che anche tutti ti amassero alla follia? Mi dispiace molto per il mio legame con il presidente Berlusconi. Sì. Io mi aspettavo proprio questo. Silvia. Io sono un uomo. Io sono l'angelo della notte. Io conosco il copione della vita. E il mio ruolo politico? Semplice. Convincere sei senatori a passare dalla tua parte. Convincere sei senatori. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Il mio elettorato trova simpatico il mio comportamento con i capi di Stato. Tutto non è abbastanza. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.